buongiorno e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video un video che la quarta scusatemi sponsorizzazione che faccio per i miei iscritti ed è l'ultima comunque se ho scruddato qualcuno comunque ditemelo sotto questo video sotto i commenti così farò un'altra sponsorizzazione comunque per adesso sponsorizzazione questa è l'ultima e finisco qua però se qualcuno di voi ovviamente deve essere iscritto al mio canale e io anche a loro ovviamente insomma tanto lo devo fare apposta per i miei iscritti quindi dovete essere iscritti al mio canale e così vi sponsorizzo faccio pubblicità praticamente al vostro canale e così anche per aiutarci pochino come già ho detto all'inizio della prima sponsorizzazione che feci del fatto della monetizzazione di youtube che ha cambiato le regole tutte queste cose qua e quindi ho deciso di fare questa cosa per aiutarci insomma a vicenda se lo farete anche voi sarebbe anche una cosa migliore per aiutarci insieme però dopo ognuno fa quello che vuole nessuno è obbligato è un consiglio che vi do io che è una cosa anche carina da fare per i vostri iscritti comunque ok quindi mi raccomando questa è l'ultima sponsorizzazione che faccio però se mi sono scordata qualcuno scrivetelo sotto questi commenti poi in caso farò un altro video sponsorizzazione per chi mi sono scordata e ovviamente non ho fatti tutti perché comunque ragazzi non ce la faccio che siete veramente tanti e in caso però mi aiutate voi mi scrivete sotto i commenti e io vi sponsorizzo in più se c'è qualcuno che vuole essere sponsorizzato me lo scrivesse sempre sotto a questo video dei commenti così poi raccolgo tutte quelle persone che vogliono essere sponsorizzate e poi farò un altro video di sponsorizzazione comunque allora cominciamo subito la prima è lei si chiama Didi Fashion Nails cioè il canale suo e questi sono i suoi video credo che da poco che si è iscritta al canale infatti ha 11 iscritti e ha soltanto video di spacchettamenti che riguarda praticamente che riguarda praticamente le unghie allora guardiamo un video guardiamo questo qui spacchettamento prima parte credo mando un po avanti così vi faccio vedere direttamente quando sennò apre il prodotto ok 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 Grazie a tutti. Aspettate, vediamo un altro video. Ah, ecco, spacchettamento, seconda parte, eccolo qua. Aspettiamo, andiamo un po' avanti. Aspettate, vediamo un altro video. Ok, allora, e quindi come avete visto lei per adesso, scusate, fa tutti i video di spacchettamento. Dopo Pellassi decide di fare altre cose, non lo so, però io vi consiglio di farla crescere un pochino, insomma, dai, dato che comunque pare una brava ragazza, eccetera. E siccome lei mi ha commentato e mi ha chiesto di aiutarla, allora io ho detto, guarda, la prossima sponsorizzazione che faccio ti sponsorizzo subito. Quindi mi raccomando, fate come ha fatto lei, se avete bisogno di aiuto, di far crescere un po' di più il vostro canale, scrivetelo sotto a questo video, sotto a questo video, nei commenti, se volete essere sponsorizzati. Allora, quindi lei è DD Fashion Nails, mi raccomando, iscrivetevi al suo canale. Adesso passiamo al secondo canale. Eccomi qua. Il secondo canale è Consigli Smart, lei ha 714 iscritti. Andiamo a vedere i suoi video. Scusatemi, ho ancora questa gola. Allora, lei fa tipo di questi video qua, fa tipo unboxing, ZT Wish, Degusta Box, dopo parla tipo di pillole di bellezza, qui ha fatto rompiamo le uova, dato che si avvicina a Pasqua, prodotti della Siena, suonata la spesa Lidl, acquisti make-up, la sua dieta, prodotti terminati, prodotti finiti, ulti gottà, insomma, da come ho capito, fa tra i unboxing e praticamente i haul, insomma. Poi parla praticamente anche come ho fatto questo video qua, dove aspettate, tipo ecco, come pillole di bellezza, oppure frola, plissimiele, assaggio, insomma, molto interessate come canale, molto, molto. E niente, allora andiamo a vedere un suo video. Andiamo a vedere questo qua. Flora, plissimiele e assaggio. Aspettate che alzo. E provare alcuni prodotti, appunto, di miele che mi sono stati inviati dall'azienda Florabis. Questa azienda è un'azienda che si giova in provincia di Catania. Adesso sto leggendo il volantino che mi hanno inviato. In modo particolare, a Zafferana e Tenea. È un'azienda che produce miele e derivanti. E ho ricevuto da loro alcuni vasetti da provare. Adesso li vediamo insieme, quali e quali sono le loro caratteristiche. E poi, magari, assaggio anche qualcosina. Il primo miele che vi mostra è questo qui, che è il miele all'arancio. È un colore, vi leggo quello che c'è scritto. Colore leggermente ambrato, aromatico, sapore e profumo del fior di Zagara. Usato per dolce, dolci, ottimo con tisana e rilassante sedativo contro le emigranie. E questo qui è il miele d'arancio. Sono un miele italiano, appunto, prodotto da questa azienda catanese. E sono, vediamo che dice, 250 grammi di prodotto. E poi vi mostro anche questo, sempre da 250, è il miele di eucalipto. Allora, questo miele ha un sapore gradibile, colore ambrato, dall'odore di eucalipto. Ottimo per le mie respiratorie, antiasmatico, emolliente e alleve i disturbi della tosse e del raffentore. Ok, allora, quindi lei consiglia Smart e mi raccomando, scrivetevi anche voi questo canale che è molto interessante. Adesso passiamo al terzo canale. Allora, lei e il suo titolo del canale si chiama Dolci Notte in cucina da Simo, ha 862 iscritti. Vediamo i suoi video. Come avete capito, insomma, dal titolo del canale, riguarda tutte le cose di cucina che fa lei praticamente molto brava. Certi angorini ti fa venire, però ok, insomma, vedete, tutte le cose di cucina. Ho notato che ci sono tante persone comunque che interessano la cucina, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al suo canale. Vediamo questa rose cake torta di compleanno. Ciao ragazzi, oggi con vero piacere vi presento la mia creatura. La rose cake l'ho realizzata per il mio compleanno. Sono soddisfatta, è venuta benissimo. Beh, per un giorno importante, un dolce importante. Ciao ragazzi! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. E che decora la torta, ecco. Ok, molto brava veramente, molto molto brava. Quindi lei è dolci, note e cucina da Simu, mi raccomando iscrivetevi al vostro canale se volete insomma vedere qualche ricetta che fa lei, è molto interessante. Adesso passiamo al, oddio questo è il terzo canale esatto, al quarto canale. Ecco, questo è il quarto canale. Lei è Aurora Star, andiamo a vedere i suoi video. Ok, allora lei credo che anche lei si occupava esatto di unghie, fa tipo le nail art, queste cose qua. Poi fa tutti questi tipi di video qua. Allora cominciamo dall'inizio. Allora abbiamo un haul di Salvantino, Emma Marroni, leggo tutte le frasi d'amore trovate nei Baci Perugina, credo. Altri haul, un yogurt americano in Italia, a montare il tempo di visualizzazione gli iscritti. Questo dovrebbe essere un vlog, ho trovato i Paci Perugina con le frasi di Emma, assaggio il vero cioccolato svizzero trovabile in Italia, parliamo di collaborazioni tra influencer e aziende, insomma tutte queste cosina qua praticamente anche di nail art. Il suo fototinta, mangiare detersivo, scusatemi, me l'ero impallata, poi anche per mantenere la monetizzazione, insomma tutte queste cosine qua. Allora andiamo a vedere un haul che ha fatto, quello di San Valentino, sono stata truffata, andiamo a vedere. Ciao a tutti, ciao a tutti e benvenute sul canale Aurora Star. A San Valentino è certamente conquistata dall'offerta che c'era, ovvero spendi 15 euro e ti davano le borse elettriche di San Valentino. Si potevano scegliere fra quattro colorazioni, quindi sono stata conquistata da acqua e sapone e ovviamente sono andata lì a fare un po' di shopping. In questi giorni sapete bene che è uscito questo mascara qui. Prima utilizzavo il mascara di Maybelline Miss Manga, ma mi sono un po' stupata di quell'effetto lì e quindi ho deciso di accantonarlo, in quanto è scaduto da un bel po' di tempo ormai. Ho deciso di scegliere questo mascara qui della Maybelline perché è praticamente il più pubblicizzato in questi giorni. È uscito un sacco di ragazze che stanno facendo video recensioni e mi sono incuriosita e quindi, visto che è super pubblicizzato, ho deciso di comprarlo. Anche se in realtà ho visto anche che è uscito da poco, molto pubblicizzato anche quello, da Sephora, un nuovo mascara. Però questo l'ho più visto all'estero rispetto che in Italia. Comunque della Benefit, con il mascara là, ho visto anche che è uscito un mascara più piccolo, da 12 euro, che sarebbe una mini size. Bargar, scusate la pronuncia, cattiva ragazza. Questo mi ricorda una canzone della Diva del Dubbo, sempre fatta apposta. Esiste anche un rossetto, che si chiama così no, anzi due, ma comunque Diva è una parola comune, quindi secondo me non vale. C'è anche una canzone di Francesca Monte che si intitola Cattiva Ragazza. Come il mascara, ma con l'aggettivo davanti. Ormai è questo, e vi parlerò di questo. E se in un video haul, questo io non l'ho ancora provato, ma al massimo posso darvi le mie prime impressioni. Ok, allora, quindi questo qui è il canale di Aurora Star, questi sono i suoi video. E lei ha quanti iscritti? Qua non lo dice, comunque ok. E iscrivetevi al suo canale, mi raccomando. Adesso passiamo all'ultimo canale, che è il... Allora, lui è Ciccioinggest95, bis, scusatemi, scusami il nome, non ho pronunciato bene. Lui ha 79 iscritti, però pensavo che avesse più video. Mi ricordo io, boh, vabbè, oppure ha fatto un nuovo canale, non lo so. Comunque ok, allora, lui ha questi due, mi è convinta che ce n'erano di più, o l'ha cancellato e quell'altro vuole fare da capo, non lo so, comunque ok. Insomma, lui ha fatto inizio a non avere un nuovo anno, e poi chiarimenti sui contenuti del canale. Può essere pure lo spiega qui, non lo so, quindi andiamo a vedere questo, va. Ciao a tutti i popoli di YouTube, qui è Ciccioinggest95, e benvenuti nel mio secondo video di questo canale. Allora, innanzitutto, buon anno a tutti, buon 2017 a tutti, a chi mi sta seguendo e anche a chi non mi seguirà ovviamente. Nel primo video non ho fatto gli auguri di buon anno, perché l'avevo registrato in realtà prima di Natale, con il mio device, telefono vecchio, mentre questo qui lo sto registrando con un telefono nuovo, un telefono nuovo, è un top di camera del 2016, quindi il video dovrebbe venire bene rispetto allo scorso, ovviamente, che aveva una qualità abbastanza scadente, perché quello era un device top di camera del 2010, quindi immaginate un po' la differenza. Allora, questo video lo faccio perché devo spiegarvi un po' meglio, insomma, questo canale in cosa porterà. In realtà ho detto che parlerò di friendzone, parlerò di innamoramenti, di relazioni tra ragazzi, tra amici, tutta questa roba qui, ma in realtà, ragazzi, questo, alla fine, la friendzone è un argomento che si satura ben presto. Quanti video, insomma, ci si possono fare? Ci si possono fare, sì, tanti video, alla fine, prendendo appunto anche dalle vostre idee, perché magari nei commenti voi scrivete tutto quello che vi viene in mente su ciò che posso portare, io ovviamente lo porterò. Ma in realtà, ragazzi, questo canale sarà un canale di vlog, specialmente, come detto, nel primo video dove parlerò di tutto, di musica, di sport, di politica, anche se non me ne intendo, di scuola, di università, insomma, di tutti gli argomenti che mi vengono in mente. Sarà, se vogliamo, una specie di diario, un diario personale mio, dove però il protagonista, ragazzi, non vorrò essere solo io, il protagonista dobbiamo essere tutti insieme, quindi voglio anche che voi partecipiate a questo canale attivamente. Ok, ho capito adesso, scusatemi, ma perché io comunque non ce la faccio a seguirvi tutti, perché siete tanti, quindi sono rimasti indietro anche su di lui, quindi praticamente questo è il suo secondo canale, insomma, ecco, comunque, iscrivetevi anche al suo secondo canale, perché quello che ha detto è molto interessante, insomma. E questo qui, quindi, è C5Gest 95bis. Allora, ricapitoliamo, mi raccomando, sotto i commenti, se ho scordato qualcuno, sicuramente, perché dato comunque non vi ho fatto tutti, perché siete veramente tanti, non riesco, casomai, chi vuole essere sponsorizzato, me lo scrivesse sotto a questo video, quindi nei commenti, mi dite se volete essere sponsorizzati, poi ovviamente se è solo una persona, due, tre, noto che faccio un video di due persone o tre, massimo deve essere cinque persone che me lo chiedono, così vi posso sponsorizzare più che bene, dai cinque in poi, insomma. Quindi se siete interessati, mi raccomando sotto a questo video, nei commenti, mi iscrivete se volete essere sponsorizzati. Ovviamente, ripeto, se siete uno o due persone, è inutile, se siete già cinque persone e più, è già meglio, insomma. E quindi niente, io spero che comunque questo video vi è piaciuto, insomma, mi ha detto poi, c'è in su, vi sia stato utile, insomma, così per aiutarvi. Vi dico che questa sarà l'ultima sponsorizzazione che faccio io personalmente da me per i miei iscritti, comunque, ho già un po' di persone l'ho aiutata, almeno lo spero, per farvi aumentare un po' il canale, se qualcuno si è iscritto, eccetera, eccetera. Probabilmente siete tanti, tanti, tanti e non riesco proprio. Però, ecco, ripeto, se c'è qualcuno che vuole essere sponsorizzato, che parte da voi, me lo scrivete sotto questo video e nei commenti, io quando sarete tipo 5, 6, insomma, da 5 in poi, di persone, vi farò la sponsorizzazione. Io niente, vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!